A poco più di due settimane dal Consiglio Comunale che ha dato l'ok al progetto definitivo per la realizzazione del casellino autostradale unidirezionale Pesaro Sud in zona Santa Veneranda, una ventina di persone fra residenti e consiglieri di quartieri si sono radunati vicino al locale Campo da Calcio dove a pochi metri dovrebbe sorgere l'accesso autostradale. È un casello che però riscuote il no secco di questa parte di cittadinanza che ieri ha voluto argomentare le proprie ragioni sperando di essere ascoltati dal sindaco Matteo Ricci. Noi diciamo no al casello in questo punto perché come potete vedere è un quartiere comunque residenziale circondato da verde e questo casello verrà proprio davanti a delle abitazioni tra cui la mia, chiuderà completamente la zona attualmente pianeggiante e verde dove comunque dietro c'è un campo da calcio dove i ragazzini ora respirano aria buona, poi respireranno soltanto smog. Per non parlare di inquinamento acustico, visivo, non da poco perché comunque luce che ci sarà giorno, notte. Per non parlare del traffico che comunque convolgerà tutta Pesaro. Basta vedere adesso che la zona della Baratof è chiusa e c'è tutta la città qua su, la zona qua su che è completamente bloccata. Sfido chiunque, anche chi abita dall'altra parte di Pesaro a dire no al casello perché comunque è veramente inaccettabile una cosa del genere. Possibile che non riescano a trovare un'altra ubicazione a questo tipo di casello, a questo tipo di struttura. Ci deve essere per forza, qua non la possono fare, anche perché comunque noi dal nostro primo cittadino abbiamo bisogno di essere ascoltati, di avere fiducia, una fiducia che lui abbiamo dato e quindi vogliamo che venga contraccambiata in ogni punto. Secondo me è una cosa molto sbagliata, naturalmente ci sono altri posti per fare questo casello e naturalmente la parte del Genica sarebbe il posto migliore se non c'è quello di Villa Fastigi. Purtroppo è stato assegnato questo casello, secondo me è una cosa molto ma molto sbagliata. Tutte le città cercano di portare il traffico fuori dalla città, Pesaro invece si fa il contrario, si vuole portare dentro la città quelli per andare a Fano, per andare a altre parti che vengono giù dalla Val del Foglia devono andare a Santa Venerante per prendere il casello per andare a Fano. Mentre invece abbiamo la Montella Battese che quattro sindaci e quelli che dicono di fare il casello di, vuol dire che danno degli stupiti a quei quattro sindaci, hanno detto che l'unico posto era sulla Montella Battese dove il sindaco di Pesaro Giovanelli aveva fatto e ha fatto il progetto, doveva venire anche un albergo su quella zona lì, ma siccome qualcuno di quella zona lì ha detto di no, ha detto e quindi il casello si fa qua dove non c'è industrie, dove non c'è niente. Il casello nella Montella Battese serviva per il turismo per Urbino, il turismo per la Carpegna, il turismo per la città che potevano uscire, da lì potevano uscire, invece qui cosa c'è dietro di là?